Luci, colori, l'atmosfera natalizia in tutta la sua bellezza. Alessandria vi invita per le vie e le piazze della città con tanti eventi per assaporare l'atmosfera delle feste, fare acquisti negli splendidi negozi illuminati e addobbati, vedere il Babbo Natale a tre dimensioni in piazzetta della Lega, curiosare nel mercatino in piazza della Libertà per vivere insieme la magia del Natale. Grazie a tutti.